Nell'infinita danza della coscienza e del pensiero, esiste un'incantevole dimensione in cui il nulla e l'assenza di sé si intrecciano, rivelando un profondo mistero dell'esistenza umana. Questa esplorazione della vacuità, è come immergersi in un vasto oceano di consapevolezza in cui il concetto stesso di io si dissolve, aprendo la porta a una nuova comprensione dell'universo interiore e della realtà esterna. Ma prima di esplorare l'argomento, ti invito ad iscriverti al canale per non perderti altri video di ispirazione zen e spirituale. Nella frenesia della vita moderna, spesso siamo afferrati dall'illusione di un'identità rigida e separata. Ci identifichiamo con il nostro nome, il nostro lavoro, le nostre relazioni e le nostre esperienze passate. Questa identificazione crea una solida costruzione dell'ego, che agisce come una cortina che ostacola la visione profonda della realtà. Ma cosa succederebbe se ti permettessi di sollevare lievemente quella cortina e gettare uno sguardo oltre? L'idea di vacuità non è una negazione del mondo, o una fuga dalla realtà, bensì un'invitante prospettiva che ti invita a vedere oltre le superfici, e a scoprire ciò che giace al di là delle etichette e delle forme. In questa esplorazione, ti ritroverai di fronte a una questione cruciale, chi sono veramente al di là delle maschere sociali e delle identificazioni temporanee? E, se per un istante mettessi da parte ogni ruolo e mi addentrassi nell'abisso del nulla interiore? La meditazione e la contemplazione sono strumenti preziosi in questa ricerca dell'assenza di sé. Attraverso la pratica regolare, impari a sperimentare il momento presente con una mente aperta e senza giudizio. Osservi i pensieri che affiorano, le emozioni che si manifestano e i sensi che si accendono, ma senza aggrapparti a nessuno di essi. Questo processo di osservazione distaccata ti aiuta a dissolvere gradualmente il senso di io separato, aprendo spazio per un'esperienza più diretta della realtà. Nel profondo silenzio della meditazione, potrai invoccare il sentiero verso l'assenza di sé. Ti immergerai in un vuoto fecondo, un luogo in cui le distinzioni si sfumano, e le barriere dell'ego si sgretolano. In questa dimensione senza confini, il sé individualista si fonde con l'oceano universale della coscienza. Non c'è separazione, solo un flusso costante di esperienza che si dipana senza fine. La paura dell'assenza di sé, è spesso radicata nell'attaccamento all'identità con cui ci siamo identificati per così tanto tempo. Tuttavia, quando abbracci la vacuità, scoprirai che non c'è nulla da temere. In realtà, c'è un senso di liberazione e di leggerezza che deriva dal lasciare andare i pesanti bagagli dell'ego. Questo non implica che smetti di esistere o di agire nel mondo, ma piuttosto che ti muovi con una consapevolezza più profonda e una comprensione più chiara del ruolo che ricopri nel grande disegno dell'universo. L'esplorazione dell'assenza di sé, non è una meta da raggiungere, ma piuttosto un viaggio ininterrotto verso la scoperta interiore. Ogni momento di presenza consapevole, ogni istante di silenzio interiore, ti avvicina sempre di più a questa profonda verità. Man mano che il concetto di io si dissolve, emergiamo come esseri più autentici e compassionevoli, in grado di abbracciare il mondo senza le barriere dell'ego. L'idea di vacuità e l'assenza di sé sono inviti a sondare le profondità del tuo essere e a sperimentare la realtà senza l'alone distorto dell'ego. In questo viaggio, abbandoni le maschere dell'identità e ti immergi nella danza sottile dell'esistenza, dove il nulla diventa il tutto e l'assenza di sé diventa la più profonda presenza. In questo spazio di pura consapevolezza, abbraccerai la totalità dell'universo lasciando entrare nella tua vita l'essenza più pura di te. Nella semplice bellezza del momento, ti ringrazio per aver guardato questo video e condiviso il tuo tempo con me, e ti invito ad iscriverti al canale se vuoi immergerti in altri contenuti legati al benessere spirituale e alla saggezza zen. Namaste Grazie